Oggi domenica 18 febbraio 2018 mi trovo in Contraramella dove come potete vedere da una botola fognaria o riescono copiose liquidi fognari ecco qua vedere un percorso breve ed eccolo qua ecco qua ecco guardare un fiume di liquami vedete che va a finire dove doviniamo dove eccolo qua nel bellissimo mare di San Sabba ecco qua nel mio bellissimo mare centinaia e centinaia e centinaia di ettrolitri di liquidi fognari di acque nere e puzzolenti che vanno a finire in mare ho già inoltrato la lettera allegando naturalmente le foto alla mamma ho indirizzata la lettera al direttore generale dell'AMAM sperando che il nuovo direttore generale intervenga sui responsabili del settore per ripristinare questa gravissima anomalia io sono convinto che ci sono le pompe staccate di sollevamento presso il depuratore non sappiamo se qualcuno li stacca si staccano da sole non lo so so soltanto di qua una persona mi ha comunicato passeggiando sulla spiaggia che ha visto questo bellissimo spettacolo domani mattina vediamo che succede buona domenica